Fare i conti con l'ambiente 2014, Piazza del Popolo con Roberta Ragni, editor-in-chief di Greenbeats.it, media partner della manifestazione. Questo giorno abbiamo sperimentato una formula diversa per il nostro meeting di giornalisti, di blogger, questo workshop. Ti è piaciuto? È un'esperienza veramente interessante. L'incursione crea curiosità come prima cosa e anche lo spazio non convenzionale in cui chiacchierare stimola le persone a un dibattito forse più interessante. Vedo che c'è voglia di intervenire, cosa che magari in un dibattito più convenzionale non c'è timidezza. La mia parola chiave di oggi è appeal, perché sono convinta che per parlare di temi ambientali e raggiungere un grande pubblico sia fondamentale l'accattivarsi il lettore. Per arrivare a grandi numeri, chiaramente non parliamo di chi è già appassionato di per sé, che magari cerca da solo i temi che lo interessano. Prossimo anno sarete di nuovo qua? Prossimo anno saremo di nuovo qua, assolutamente. Magari nuotiamo, non lo so, studiamo una formula ancora diversa. Beh, con questo caldo una piscina. Una piscinetta non serve anche male. Grazie Roberta Ragni, che è in Biz.it, ciao. Grazie a tutti.